Ancora una sconfitta, ancora un K.O. pesante casalingo e ancora buio pesto per una pistoiese che sembra non uscire più dal tunnel. Una partita senza storia, quella al Melani dove il poker emiliano condanna gli arancioni ad un altro stop, il quinto nelle ultime sette partite. La squadra di mister Lucarelli gioca per i primi 20 minuti del primo tempo, poi va in letargo e da lì non si risveglia. Dall'altra parte Granata mettono presto le cose in chiaro, sbloccano il risultato al 27esimo con il sinistro di Giannone, non così imprendibile da Ricci, che anche in questa giornata cade nell'errore. Prima dell'intervallo, al 38esimo sul cronometro, arriva il raddoppio ospite, questa volta è Minnarelli che controlla di destro e fredda Ricci. La non reazione dei padroni di casa preoccupa il tecnico Livornese, che nella ripresa cambia le carte in tavola con qualche cambio, puntando su Romeo al posto di Calvano, Mungo per Anastasi e dentro l'ultimo arrivato Martignago fuori Piscitella, ma niente di nuovo sul fronte del gioco. In campo la Pistoiese ancora non c'è, e oltre alla pioggia accade anche il buio davanti agli occhi dei tifosi, quando la Reggiana segna il terzo e il quarto gol. Infatti c'è gloria anche prima per Maltese al 56esimo, pronto a sorprendere il numero uno di casa. Pochi minuti dopo Ruopolo chiude il sipario. Solo al novantesimo gli arancioni, dopo essere rimasti in dieci per l'espulsione di Golubovic, vanno vicino alla rete con Romeo, che però non riesce a ribadire una conclusione di Martignago. Ma ormai il risultato è questo, e la contestazione dei tifosi è già iniziata, con i giocatori sotto la curva. Solo due punti in sette gare sono tutt'altro che confortanti, e c'è da capire cosa c'è che non va in via delle Olimpiadi, dove adesso la crisi è una triste realtà. È una situazione che è da riflettere, soprattutto da capire questa involuzione, come ho detto prima, e soprattutto da analizzarne le cause. Non è facile che dopo una partita come questa, che sul 2-0 pensavi già di aver perso, c'è da capire tante cose, perché questa squadra dopo 20 minuti si scioglie, perché questa squadra ha perso Brennantezza, perché questa squadra non ha più l'alternazione della grinta di prima, e ci ha dannezzato tante cose. Sono il primo responsabile, io ho sempre messo, grazie alla fiducia che mi ha sempre dato alla società, in primis il Presidente, ho sempre messo la faccia. È un momento amaro, è un momento di riflessione. Questa riflessione io non è che possa svegliarmi dopo una gara persa, ho la maturità e la sanità per ragionare con calma. Credo che una cosa è certa, che il primo responsabile sono io, in quanto ho sempre garantito io per tutti, il mercato l'ho condotto io, il coordinatore, il Presidente ha amato carta bianca, mi ha dato tutte le opportunità di fare le cose che volevo, perciò questo non è per spendere la lancia a favore, direi, del Presidente o della società. Questo è un dato di fatto e devo capire da professionista di 35 anni di calcio, capire le cause. Allora, io non dico che io vado via, io sono il primo a essere ramaricato, il primo a essere umiliato, perché queste sono, nel calcio si chiamano umiliazioni. Quando perdi 5 a 0 in casa, 4 a 0 in casa, prendete la storia della pistoiese, nei momenti più buona avrà persa una in 30 anni, mi seguo, io sono a dare il massimo di me stesso, può darsi che il mio massimo non è sufficiente e devo analizzare il comportamento di tutti, il mio per primo e degli altri. Io ho ora una risposta, mente fredda, non tardò neanche per me, perché io sono quello che, ripeto, è il maggior responsabile. Forse mi spiego male, ma è così.